Sarà l'ippodromo di Agnano ad ospitare venerdì 29 marzo dalle 10 alle 13 la seconda edizione di Lasciati Guidare, l'iniziativa del Comune di Napoli dedicata alla sicurezza stradale e rivolta a tutti i cittadini. Saranno esaminati i rischi legati ai comportamenti più pericolosi come l'utilizzo del cellulare alla guida, il consumo di alcol e droghe, il mancato impiego delle cinture di sicurezza e del casco. La partecipazione è gratuita. Ci teniamo molto che i ragazzi imparino a guidare. Per questo motivo il 29 marzo regaleremo tre corsi di guida sicura ai ragazzi perché secondo noi uno dei grossi problemi è proprio che questi ragazzi escono dalle scuole guida senza saper guidare. Per cui una delle cose più importanti è proprio insegnargli a guidare, a prescindere da tutto. Nell'ultima settimana purtroppo nella nostra città ha registrato tre decessi di tre ragazzi. Uno su via Bagnoli, su una motocicletta, un ragazzo di 26 anni, un altro ragazzo a via Bomeo e a Dagnano, l'ultimo pure domenica di domenica sera, un altro ragazzo è stato travolto sullo suo scooter. Gli studenti premiati per le migliori opere creative sulla sicurezza stradale saranno invitati a prendere parte ad un corso pratico di guida all'interno dell'ippodromo. Sono previste inoltre alcune esibizioni spettacolo a cura del Napoli Motor Festival. Il tempo è scaduto perché la prima causa di morte delle ragazze e dei ragazzi è proprio guidare e questa cosa non è possibile, non è concepibile ed è per questo che la politica, le istituzioni e le amministrazioni devono mettere in campo tante azioni per prendere per mano le ragazze e ragazzi e insegnare loro a guidare, guidare in sicurezza perché è possibile e per questo quindi che noi ci vediamo in una location unica che è l'ippodromo di Agnano con delle competenze e delle professionalità quali quelle del Motor Show per far vivere agli studenti, alle ragazze, ma a chiunque perché è una mattinata gratuita, aperta, voluta per le scuole ma non solo, la possibilità di poter andare in pista, mettersi su una macchina, sedersi su uno scooter e capire in che modo guidare in sicurezza per se stessi e per gli altri. Quindi ragazze e ragazzi vi aspetto e invito le docenti a partecipare a questa giornata che è venerdì 29 marzo all'ippodromo di Agnano. Grazie.